Amici di Mollibit, bentrovati, buon ascolto ovviamente sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Questo è spazio interviste Mollibit, abbiamo già in collegamento Bruno della Porta e dei diretti interessati per ascoltare un altro inedito per la prima volta qui sulle nostre frequenze, anche se so già che loro stanno lavorando in sala registrazione per altre news. Quindi ci siamo radiotrasportati a Roma, buon inizio settimana a tutti, vado subito a dare la linea a Bruno della Porta. Vado. Ed eccoci qua, facciamo partire lo stacchetto come sempre, abbiamo fatto partire ovviamente lo spazio in cui proponiamo, quindi chiamato Promodisco, qui facciamo ascoltare nuovi inediti. Loro, soprattutto noi in questo momento andiamo a parlare con Frontman, dei diretti interessati, ci siamo radiotrasportati a Roma e al telefono abbiamo Bruno della Porta, bentrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Gela Express, buongiorno a tutti. E voi Bruno, ben ritrovato sulle nostre frequenze, qui il tuo brano si ascolta spesso, stiamo parlando delle tue mani, l'abbiamo ascoltato anche in questa programmazione di oggi, giusto per rinfrescarci. Sì, l'abbiamo ascoltato anche noi. Salutiamo tutti gli amici rumani ovviamente. Ma quanti siete in questa formazione? Perché ho visto che ci sono anche delle donne. Allora, di donne sono due ecoliste, di donne. Esatto. Due ecoliste. Poi la canzone l'ha scritta Nicola Di Bona, un grande amico nostro, che ci ha scritto anche le tue mani poi. Bellissimo questo pezzo, centrato nel cuore, ma non a caso ha vinto anche il disco d'oro degli ascolti, il primo in questa programmazione. Grazie, grazie. E niente, stavo dicendo, siamo due ecoliste e quattro elementi, poi sei, noi diventa sempre uno quello che deve fare poi alla fine. Quindi ci sono anche i turnisti, ecco. Sì, sì, i turnisti tutti, sempre i turnisti noi. Non abbiamo, abbiamo solo il chitarista fisso, che sono anni che sta con noi, che si chiama Berluigi, e poi il resto tutti i turnisti, tutti i maestri di musica voi. Ma parliamo invece di sopravvivere. Sopravvivere è un brano, che l'abbiamo fatto perché la prima volta che l'ha scritto Nicola stavamo in dubbio, si era per noi, non era per noi. Invece poi alla fine, alla fine è riuscito benissimo, perché abbiamo fatto più di 16.000 visualizzazioni, 16.000 erotte. Oh mamma, tantissime. Stiamo andando bene, anche con sopravvivere, sta uscendo anche un altro brano a questi giorni. Io sono curiosa, sono curiosa, ma aspetteremo chiaramente di presentarlo qui, sulle nostre frequenze. Grazie Molli, grazie. Sopravvivere, insomma, intanto la location, ho visto un po' il video che poi posteremo anche sulla nostra pagina Facebook, è stato girato a Roma? Sì, sì, l'abbiamo girato a Roma, sì, sì, è vero, vicino a casa mia. Ah, che dettagli. Comunque c'è un bellissimo murale, graffito, come definirlo, anche molto molto bello, quindi... Più che altro è simpatico. No, no, bello, bello. Andiamo a fare un video, poi ho messo tutte le ragazze, per non mettere le solite cose, sempre i dormisti, ho voluto cambiare un po'. No, l'anno delle donne, finalmente diamo vita e voce alle donne. Sopravvivere è un brano che sicuramente è un po' una provocazione, insomma, che tra l'altro è anche tanto contemporaneo a quello che stiamo anche un po' vivendo, possiamo dirlo, no? È lo sfogo, quello che in questo momento proviamo nei confronti della vita. A volte la musica riesce anche a dire questo, no? Certo, questo è un brano proprio che parla di adesso, sopravvivere, dobbiamo tutti sopravvivere poi alla fine, no? È vero, è vero. Scusa, è la cosa più bella, la musica, sopravvivere, divertirci, fare tante belle cose. Però poi cosa dici? La musica ti salva la vita, no? La musica ti fa sorridere. Bene, bene, importantissimo. Bruno, allora, noi siamo pronti per ascoltare questo brano insieme, qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Oggi è stato un incontro che diventa semplicemente un anello di congiunzione perché noi restiamo in attesa del prossimo inedito, che so che in questi giorni... È bellissimo, sì. Bene, bene, bene. Allora, noi siamo prontissimi, lo ascoltiamo, qui sulle frequenze di Radio Gela Express e Radio Vittoria Express. Adesso abbiamo avuto il piacere di salutare anche Bruno Della Porta, i diretti interessati, salutiamo Marilena che ci sta seguendo in questo metto sui social, anche Kevin, e siamo pronti ad ascoltare Sopravvivere. Alla prossima, un bacio. Ciao a tutti voi. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, lì, lì. Ciao. Siamo pronti, siamo pronti. Grazie, tra poco posto anche il video che è bellissimo sulla sua pagina Facebook. La mia storia è molto semplice Di dare invece è difficile Una voglia al vento sempre Qualche volta ho pregato io Si fa tanto male ricevi Si fa tanto bene ricevi Ma E' tutto che va sempre al contrario Alzo le mani Io non so cosa fare Ma la musica salva Ma la musica vince Ti fa sopravvivere Ti chiede a gallo Sopra questa merda Così le smiglie Ma la musica resta Quando tutto poi passa E sei da solo tu Dentro un sogno special Porti stegli sul dato Che scrivo la realtà C'è dentro il mondo Per sopravvivere Ma perché non c'è il trovo E sopravvivere Sopravvivere Con tutta quella forza che hai E sopravvivere Io non tentino poi Per perderti mai Sopravvivere Senza perderti mai Perderti mai Perderti mai Ma perché non c'è il tempo E sopravvivere E sopravvivere E sopravvivere E sopravvivere E sopravvivere E sopravvivere Mi ritroverai E sopravvivere E sopravvivere E sopravvivere Così il respiro è finito Ma la musica resta quando tutto poi passa E sei da solo tu E con soltanto speciale Ma ti spieghi sui dati E scrivo la realtà Sei venuto al mondo per un soltanto dire A volte non c'hai come un soltanto dire Sopra la vita Con tutta quella forza che hai Sopra la vita E è la gente che non vuole per me Sopra la vita Senza perderti mai Perderti mai Perderti mai Perderti mai Perderti mai Anche il sole è trabata Ma non è la scienza E lo più rafforzare E tu le cari E sopra ti derai E sopra ti derai Mamma mia Sopravviveremo Assolutamente sì Perché noi ci dobbiamo mettere Tutta la nostra grinta E non possiamo assolutamente Fallire Ma noi siamo tosti Quindi va bene Tanto complimenti Ai diretti interessati Ovviamente per questo brano Che ci hanno fatto ascoltare oggi Salutiamo Bruno della Porta Vi aspettiamo ancora domani Tocchiamo un altro tema Che riguarda la musica Ma in questo caso La musica è la devozione Infatti ci radiotrasportiamo a Catania Ed ascolteremo un brano Dedicato a Ve lo faccio sapere domani Vi aspetto alle 11.40 Qui sulle frequenze di Radio Gela Express Grazie ovviamente sempre per la vostra partecipazione Complimenti a Marilena Che dice Viva la musica Sopravvivere è importante Quindi la musica ci fa sopravvivere Un bacio a domani E buon ascolto Per chi vuole restare con noi Ad ascoltare questa diretta di Molly Beat Che vi tiene compagnia Vi ricordo Da lunedì a sabato Dalle 10 alle 13 www.radiogelaexpress.it Bacio a tutti